L'importanza è che abbiamo voluto patrocinare questa manifestazione per il trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, dei due magistrati siciliani che per il loro impegno che hanno profuso rappresentavano e rappresentano tutto il simbolo della lotta alla mafia, quindi della legalità, dello Stato, del rispetto delle leggi, delle regole democratiche e non potevano essere accettate da parte del Comune. Siamo onorati per questa iniziativa che si fa qua a Mociano, quindi ci sarà un convegno. Siamo anche onorati di ospitare la fanfare della Polizia di Stato, ormai qui a Mociano è di casa e questa è la terza volta che viene, e quindi si chiuderà la serata con questo evento che pensiamo sia una cosa buona anche per la cittadinanza. Diciamo che noi stiamo approntando degli eventi culturali nell'intero anno. Certamente la figura di Borsellino e Falcone nel merito, diciamo, perché il 23 si svolge a Capaci, diciamo, e a Palermo, noi abbiamo optato per il giorno 22 per ricordare questa figura e anche abbiamo interferito con le scuole del nostro Paese. Proprio in virtù di questo faremo questa iniziativa, proprio dove il Paese sicuramente risponderà abbastanza numeroso. Quali saranno le iniziative allora? Le iniziative sono un convegno all'Aula Consigliare sulla figura di Borsellino e Falcone, dove parteciperanno diverse autorità di prestigio come relatori, poi in piazza si serrà il concerto della fanfare della Polizia di Stata, che parteciperanno a questo evento, a cui noi già ringraziamo fin d'ora tutti coloro che hanno aderito per far sì che questa figura, queste figure, possono essere commemorate al meglio. Io sono veramente lieta e felice di questo evento e ringrazio l'Associazione Vittorio Beltramba che ha organizzato una manifestazione così importante a Mociano Sant'Angelo. L'importanza di ricordare il tragico evento è fondamentale per le future generazioni. Non dobbiamo dimenticare la battaglia di Falcone e Borsellino per combattere l'omertà, l'omertà che è alla base del sistema mafioso.